Ciao sono Loki, no aspetta rifaccio Ciao sono Venom Ciao sono scemo Sì perché ho appena registrato questo video dove creavamo Venom E poi ci giocavamo C'avevo la mia facecam davanti Non è zoomata, era così E voi non potevate vedere nulla Nulla di quello che c'era qua sotto Quindi adesso ci spostiamo Facciamo così Così è perfetto Possiamo riregistrare il video Ciao sono Loki e quello che vedete è un Venom Che ho fatto ma ne possiamo fare un altro E in descrizione vi metterò Tutti i link che serviranno Per fare il vostro Venom Si può fare due tipi di Venom Partiamo dal corpo Questo è Loki che tutti siete abituati a vedere Cioè non sono Loki Perché ora mi chiamo così Se volete aggiungermi scrivete il vostro nome Almeno vi riconosco Ho già 100 amici E vi aggiungo anch'io Mi chiamo non sono Loki Voglio vedere tantissime richieste Ma la prima cosa da fare Dovremo cambiare sotto corpo La nostra carnagione Perché vogliamo diventare neri Belli abbronzati Ci facciamo una bella Lampada Ma è bianco Ma io ho selezionato nero Roblox è razzista Non mi vuole far diventare nero Vuole lasciarmi bianco Allora dobbiamo andare in avanzato E scegliere questo Vediamo tra l'altro Mi trovo benissimo nella mia cameretta nera Belli Bellissimi Con questi denti super bianchi Solo che mi sono dimenticato Che io sto guardando la parte opposta Quindi devo fare così Ok Quindi quando guardo di qui Guardo nel punto giusto Cerchiamo Venom Il Venom che vogliamo noi È circa questo Vi piace? Bello eh Ma che dentini che c'ha Chissà quanto costa per lui andare dal dentista E purtroppo Venom è pelato Quindi dovremo togliergli i capelli Togliamo i capelli Bello Sembro sempre molto più Venom Vi piaccio? Bellissimo Poi cerchiamo Venom Nel negozio Avatar E dovremo comprare i vestitini Sennò si sente nudo 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 E c'ha freddo Questo mi piace Quindi lo compriamo da lui Goditi questi 5 Robux E altri 5 Robux Ci cin ci cin Siamo arrivati a 10 Robux per ora Quindi lo indossiamo E indossiamo anche questo Che stavamo iniziando a sentire Un po' freddo Guardiamoci un po' Vediamo se assomigliamo Almeno Un piccinino Così a Venom Sì Abbastanza E guardate un po' Ho dovuto per forza Comprare questo Solo per una posa Questa è una posa Gratis Che vi sto facendo E non è costata 250 Robux Comunque ho acquistato Anche Uzzal Bello così E praticamente adesso Abbiamo la posa di Uzzal Che è questa qua Molto cattiva Ci stiamo assomigliando Sempre di più È bellissimo Sembra lui La parte principale Sono i denti Dobbiamo cercare Sinister Mask of Shadows Vediamo se la trova No Ed è per questo Che vi do il link Io Non so perché Ma se tu la cerchi Non la trovi È un oggetto segreto Noi questo qui Ce lo indossiamo E andiamo subito a vedere Come siamo diventati Nel nostro avatar Belli Siamo abbastanza Venomosi Ma un Venom Non è un Venom Senza Questo non ce li ha Ma ha una linguetta Dovremmo prendere anche la linguetta Un Venom Non è un Venom Senza i suoi tentacoli Con cui Può raggiungere Guardate che bei tentacoli Ci sono anche qua Ci sono altri tentacoli Bellissimi Però noi prenderemo questi Sempre il link Qui sotto Solo 100 Robux Io ce li ho già Quindi li indosso E dovremo diventare Vediamo Scopriamolo assieme Vediamo tipo Uno spacchettamento Di avatar Di Roblox Cosa uscirà? Sarà bello? Non sarà bello? Secondo me Farà schifino È bellissimo È bellissimo Ma ora ci manca la lingua Nooo È vero che se Di faccia Teoricamente se ne può scegliere Solo una Solo se Non sapete questo trucchetto Quindi gli abbiamo messo La linguettina Così Però possiamo Prendere il numerino Della maschera Poi andiamo Tipo accessorio Faccia Avanzato Questo è un trucchettino E possiamo mettere Più oggetti Dello stesso tipo Cioè Si possono mettere Anche tipo Due tre capelli Insieme So che non lo sapevate Se lo sapevate Scrivetene sotto Nei commenti Lo sapevo Ora mi piace moltissimo Solo che dobbiamo Cambiare il corpo Perché è abbastanza Quadrato E Venom È abbastanza Rotondo Vedete com'è rotondo Quindi a questo punto Si può scegliere Di fare due cose O si cerca Il super hero Anche se Venom non è tanto Un super hero È più un super cattivo Però non è colpa sua È che lui ha fame Ha questo brontolino Io lo so Ma quegli brontoli Dice ho fame Ho fame Allora lui mangia Anche se sono umani Potete prendere O questo super hero Che è 230 Robux Vedete che fa questo effetto Molto muscoloso Come lui C'ha questi muscoloni qui Oppure Potete andare In busto E comprare Roblox 2.0 Vi metto poi il link Sotto in descrizione Costa solo 15 Robux Quindi E li mettiamo Tutto questo Roblox 2.0 Ok Il problema è che abbiamo Il tipo di corpo A 100% I miei pantaloni Perché i miei pantaloni Si fermano le ciole mutande Sono rimasti in mutando Ho speso tutti i miei Robux Perché ho i pantaloni così Ok Belli Siamo molto Venomosi E direi che è finita qui Oppure Possiamo aggiungere Anche questo No La maschera Dobbiamo Riaggiungere la maschera Salva Non ci resta nient'altro Che provarlo In una mappa Di Roblox Altre versioni Si potrebbero fare Con Hungry Eyes Dal modico prezzo Di 15 Robux Che noi Possiamo aggiungere Vediamo se viene bene Ma Si accumuleranno gli occhi Verrà una schifezza Mi ha tolto ancora la maschera Sì Sono io Peter Parker Questo in Spider-Man 3 È bello Ma Dobbiamo Riaggiungere tutto Vediamo così com'è Fa schifo Togliamo gli occhi Oppure questo Venom Come vi ho detto prima Si potrebbe fare Con Il busto O le braccia Da supereroe Che non è mica male Oddio Mi è entrato Un simbionte nel naso Bello così Proviamo a cambiare le braccia Col supereroe Ok Braccia più pompose Quanti muscoli Quanti muscoli Bellissimo Con le braccina così Bello Mi piace Non ci resta nient'altro Che provarlo La mappa migliore Per provare Venom È nella mappa The Spider-Verse Vi metterò anche questo In descrizione È bellissima Forse ce ne sono Di migliori Io non lo so Consigliatemelo voi L'unica mappa Che ho trovato bella Di Spider-Man È questa Si spiccano salte altissimi Si swinga tra i palazzi Woohoo Come Spider-Man Solo che siamo Venom Ragazzi È fatta benissimo Sta skin È troppo bella E adesso Woohoo Posso tipo ad esempio Spiccare un salto E Volare lì Woohoo Ok Sono dentro una grondaia Aiutatemi Nessun problema C'è Venom A non salvare la città Woohoo Guardate come atterri In una posa fierissima Questo è il Venom più bello Che voi abbiate mai visto E ora controllo Se è tutto a posto Nella città Guardate la mia posa Spider-Mendoza Oppure Aspetta L'assumo anch'io Questa posa Sembra tanto Quando devi fare la cacca Nei bagni Dove non c'è La tazza Oh no Ma mi scappa tantissimo Vediamo se c'è qualcuno Che passa No posso farla Oh c'è qualcuno C'è qualcuno Vengo io Vengo io Tranquillo Vengo io a salvarti Ti sparo un po' di liquido bianco In faccia Ha Sono Venom Sono Venom Eh ha funzionato Che bello Sarebbe bellissimo Se si potesse Se si potesse Arrampicare i muri No Lasciate 10.000 mi piace Ovviamente Se vi piace Questa skin Di Venom Perché nei prossimi episodi Se questo video va bene Se no Ne farò altri Vi aiuterò A fare Col meno soldi Possibili Un bellissimo personaggio Di Roblox Come va sui palazzi Attenzione Bene basta Questa era l'ultima acrobazia Con questo vi saluto Spero che La skin Di Venom Vi sia piaciuta Spero che